Il fascino di Leonardo attraversa i secoli e le latitudini, 500 anni dopo la sua scomparsa, anche il Giappone ha voluto rendere omaggio all'inventore, artista e scienziato italiano. A Tokyo una mostra multimediale di successo ha proposto la realizzazione di opere incompiute o andate perdute del genio toscano, ricostruite nella forma originale da studenti universitari. Questa è una statua di bronzo di cavallo sportesco che Leonardo da Vinci non ha potuto finire all'iniziale perché ha cominciato da quella tra Francia e Milano, così quel modello che ha l'iniziale ha distrutto tutto. Abbiamo scelto questa forma di eriziale basandosi sempre sul disegno. Questa pittura, sfortunatamente, è tagliata da qua, quindi quella pittura originale a Washington è tagliata da qua, quindi non esiste questa parte sotto. Abbiamo ricostruito la forma originale basandosi sul suo disegno che ha lasciato Leonardo. Per noi studiare e approfondire lo studio di Leonardo aiuta per i nostri studenti per fare una cosa nuova anche, così abbiamo scelto questa via per la nostra università.